Sorridere è affrontare al meglio ogni giorno. È libertà. È condividere piccoli momenti. Proteggi il tuo sorriso. Passa subito allo spazzolino elettrico. Solo adesso Oral-B ti offre il rimborso totale. Affrettati! Scopri come ottenerlo su oralbirimborsototale.it Buongiorno Italia, sono il vostro Segugio. È stata dura, ma eccoci, siamo ripartiti. Siamo tornati alla guida e alla nostra vita e io continuerò a farvi risparmiare sulla pollizza auto e moto. Su Segugio.it confronti le migliori assicurazioni online. Rimettiamoci in moto! Segugio.it, il supereroe del risparmio. Quella volta che eri un mondo e tutto ti girava intorno. Quella volta in cui le seracinesche sembravano non alzarsi più. E poi, quella volta che hai riaperto. Nastro azzurro. A chi, adesso, non si ferma. Ti fischiano le orecchie? E perché Opel ti pensa e ti copre di vantaggi? Mara ha sempre ragione. La superrottamazione Opel è imperdibile. Allora! Su tutta la gamma, fino a 8.000 euro di vantaggi per tutti anche senza usato da rottamare. Goditi la tua Italian Summer. Rati a partire da 2,99 euro sui migliori smartphone come lo straordinario Oppo A72. Se sei già cliente, è tuo con zero anticipo e con infinito hai giga illimitati per un mese senza costi aggiuntivi. Over me! Con i Summer Days di 1 euro, se vuoi, puoi avere lo Xiaomi Redmi Note 9A 229,90 euro. Perfetto per l'estate, grazie alla super batteria. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. Non ho mai avuto tanta paura. Birra Seme Dorato. Bevi le tue emozioni. San Benedetto Succoso Zero. Il piacere della frutta, senza l'aggiunta di zuccheri. San Benedetto Succoso Zero. My Secret. San Benedetto Skin Care. Il rituale di bellezza. Con collagene, zinco e acido ialuronico. San Benedetto Skin Care. My Secret. Comincia! Finalmente! Vi devo rispiegare un po' di nuovo? Torniamo in campo insieme. Con la giga Network Fibra, i Vodafone TV e Nauti V Sport. Scopri l'offerta speciale nei nostri negozi o su Vodafone.it. Over me! L'ispirazione arriva quando meno te l'aspetti. Nasce dagli incontri sorprendenti e dalle fusioni inaspettate del tè con il gusto della frutta, le erbe e i fiori. Fusti goditi fusioni inaspettate, anche senza zuccheri. Liberi di viaggiare in comfort class con SUV Citroen C5 Cross. Citroen anticipa gli incentivi. Fibri fino a 7000 euro di vantaggi sulla gamma SUV. Citroen. Mal di testa, hai minuti contati con OkiTask. Quando serve puoi prenderlo subito, senza acqua. OkiTask, a rilascio rapido, può iniziare ad agire dopo 5 minuti. OkiTask, il mal di testa, hai minuti contati. Ogni giorno noi di Milk riceviamo il nostro latte di montagna direttamente da 3000 piccoli allevatori locali. Eh già, ci complichiamo la vita per darvi tutta la semplicità del nostro yogurt da bere. Yogurt da bere Milk, dal nostro latte, la nostra semplicità. Sei pronto all'evento dell'estate? Da Mediaworth è arrivato il Red Friday. Prezzi imbattibili sulla migliore tecnologia fino al 15 luglio, anche a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite, a soli 379 euro. Mediaworth, fatto apposta per me. Tutto ha inizio da un impulso, ma dopo un attimo ti ritrovi a volare. Ed è allora che ti senti inarrestabile. Nuova Honda Jets Hybrid, l'ibrido che non c'era. Tua da 199 euro al mese, prima rata nel 2021. Vai su Honda.it E tu chi sei? Comando un gruppo di soldati, come te. Con delle doti estremamente rare. Siamo molto difficili da uccidere. Voi siete i buoni o i cattivi? Dipende dal secolo. Quindi noi non moriamo male. Sei una di noi adesso. Mettiamoci al lavoro. Muoviamoci! Aspettiamo il segnale. Come diavolo facciamo a capire qual è? Ah! Liberi di viaggiare in comfort class con Sub Citroen C5 Cross. Citroen anticipa gli incentivi. Pino a 7000 euro di vantaggi sulla gamma Sub. Citroen. Nei periodi in cui mi sento stanca, scelgo Carnidin Plus. Con acetile e carnitina. Ha una formulazione equilibrata di vitamine e minerali che ti aiuta a combattere la stanchezza fisica e mentale. Con Carnidin Plus fai decollare la tua energia. E in caso di caldo ed eccessiva sudorazione c'è Carnidin Fast, magnesio e potassio. L'estate è il momento ideale per prendersi una pausa. Anche dallo studio. Con Mediaset Play puoi guardare una puntata delle tue serie preferite. O recuperare quello che ti sei perso con le stagioni complete. Mediaset Play. Scarica subito l'app. Agli italiani dedichiamo una birra fatta con i quattro luppoli migliori al mondo. Uno di questi è coltivato in Italia e sta solo aspettando il momento per fiorire di nuovo e tornare più forte di prima. Proprio come noi ora. Quattro luppoli birrificio Angelo Poretti insieme agli italiani dal 1877. Stretto, largo, un mutandino. Prova la coccola Pampers più avvolgente e sicura. Con la fascia elastica lo protegge e lo tiene più asciutto fino a 12 ore. E a luglio e agosto più acquisti mutandino e più risparmi. Carica 5 codici sull'app e ricevi 10 euro in buoni sconto. Pampers con amore si cambia. Ragazzi, voglio condividere con voi questo cielo stellato pazzesco. Eccolo qua. Condividi tutte le emozioni della tua estate con la top quality network di Wind 3. Scopri Samsung Galaxy S20 da 9,99 euro in più al mese. Un desiderio che si avvera per tutti. Wind 3. Molto più vicini. Brillante ed elettrizzante, super frizzante, bocca scioccante. Che flow, sempre tops, trepitosa e stilosa. Show some love. È Pepsi Max, zero zucchero e gusto max. Prova anche la nuova Pepsi Max, zero zucchero, zero caffeina. Potremmo parlare dell'hotspot Wi-Fi. Vantarci del motore turbo benzina da 120 cavalli. O magari dei nostri fari full LED. Ebbene sì, potremmo. Ma sappiamo che quello che conta per te è che questa è una Jeep. Jeep Renegade, da 299 euro al mese. Con zero anticipo e zero rate nel 2020. E solo a luglio, Jeep Renegade Summer Edition con hotspot Wi-Fi e full LED pack in omaggio. Mamma, ti voglio bene. Guardami. Come running, come runin' Vai, sei qua. Mi schmронit sei online, mamma. Basta ma seiおい inolite nel 2020. Toral Jo기 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Raddoppia la tua estate Con Super Giga hai 40 Giga a 9,99 euro E se hai team anche a casa i Giga diventano illimitati per tutta la famiglia In più puoi avere il Samsung Galaxy A21s a 5 euro al mese senza anticipo Vieni nei negozi team Questa è una Mercedes-Benz Questo è il suo NBX Basta dire... Ehi Mercedes, trova una profumeria, un'ottica e un supermercato? Ehi Mercedes, imposta le luci verdi, blu, rosse Ehi Mercedes, trova una scorciatoia Avvio il percorso Quest'estate rimani senza parole Nuova gamma Mercedes-Benz con NBX di serie a 50 euro al mese per i primi 6 mesi e anticipo zero con My Drive Pass Santal presenta i frutti vendoli d'Italia Oh ragazzi, mai provato i classici Santal? Tutti 100% origine naturale, spettacolari Ma poi, che sapore hanno? Nessuno conosce il sapore della frutta meglio di chi lo sceglie ogni giorno Ma che roba! Santal, assapora la frutta Oh ragazzi, va che magia! Santal è anche senza zuccheri aggiunti Cosa aspetti? Riprovalo! Speravi non sarebbe tornato? Contro il mal di schiena puoi provare un trattamento mirato con Voltarenemulgel 2% La doppia concentrazione di medicinale agisce sulla causa del dolore L'infiammazione Per contrastare il mal di schiena là dove serve Voltarenemulgel 2% Comunicato 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 Italia 1 Quando avrà luogo l'incantevole serata? Sabato alle 21.20 su Italia 1 Italia 1 Sembra che chiunque abbia investito con show sia stato affrodato Ha preso anche i suoi soldi Vuoi rubare 20 milioni ad Arthur Shaw nell'edificio con uno dei sistemi di sicurezza più avanzati al mondo? Noi non siamo criminali, non sappiamo rubare Io conosco qualcuno che sa farlo La miglior vendetta Il piccolo epilettico vuole derubare qualcuno È la rapina Basta montagna, il commesso dice che questi sono molto più caldi Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick Tower Heist, colpo ad alto livello Domenica alle 21.20 Italia 1 Con il barattolino San Montana siamo solo un cucchiaino di distanza San Montana, da 70 anni in Italia, il gelato con il sorriso dentro Quest'anno le nostre vacanze saranno diverse Ci godremo il fascino del mare italiano insieme ai nostri cari Cercheremo un rifugio nascosto sulle vette delle nostre montagne Oppure le passeremo in piena azione sotto il sole Con gli amici di sempre Questa è l'estate made in Italy Questa è l'estate Chateau Dax Con sconti fino al 50% in pronta consegna su salotti e divani letto Come il divano America in tessuto sfoderabile O il divano Atlantica angolare in pelle Con sconti fino al 50% E se abbini una parete living all'acquisto del tuo nuovo divano Aggiungiamo un ulteriore sconto Buona estate Italia Chateau Dax La casa secondo te Liberi di viaggiare in comfort class con SUV Citroen C5 Cross Citroen anticipa gli incentivi Pino a 7000 euro di vantaggi sulla gamma SUV Citroen Italia Uno Non sei un samurai Escluso Condannato Alla vendita Ho bisogno del tuo aiuto Chiano Rips La leggenda dei 47 guerrieri divenuti immortali 47 Ronin Lunedì alle 21 e 20 Italia 1 Bisogno di leggerezza? Giùite C'è Galbani Light Con la mozzarella Santa Lucia La cremosa certosa La delicata ricotta Il gusto unico del galbanino Galbani Light Buoni come sempre Leggeri più che mai E adesso c'è anche Bel Paese Leggero Lo trovi al Banco Gastronomia Per lo sporco Ho come una vista laser Ho pulito l'altro giorno ed è di nuovo qui Ma usare lo straccio per una stanza sola è troppo impegnativo Quindi vado di Swiffer Lava Pavimenti I suoi panni imbevuti di detergente puliscono in profondità Per rimuovere sporco e batteri Basta faticare Inizio a Swifferare Non avete la tartaruga addominale? Non fatene una tragedia Potete sempre contare sul gusto unico e inimitabile di Estatè 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 Tè Best E a grande richiesta Estatè Zero Tutto il piacere di Estatè Senza zucchero Carattere sportivo Connessa Nuovo design Inconfondibile Ibrida Nuova Seat Leon Tua da 19.500 euro Disegnata dalla luce Io e mio figlio abbiamo una passione Il basket Mia moglie e mia figlia invece amano la danza L'auto è una e i chilometri sono tanti A me serviva un'assicurazione completa però conveniente Sono andato su facile.it Ho confrontato le assicurazioni e ho trovato la migliore per me E ho risparmiato quasi 500 euro Facile.it 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 Risparmiare è facile Facile.it informa Con facile.it puoi risparmiare sulla polizza moto Anche sospendibile Cogli l'occasione di viaggiare in Italia a tasso zero Vai sul sito Unicredit E scopri cosa ti riserva dal 1 luglio al 31 agosto 2020 Carta Flexia Iomo presenta la signora Mucca Signora Mucca? È vero che in Italia quasi uno yogurt su due non è italiano? Cos'è? Lo capisci la nostra lingua? Quell'ario from? Sì Ciao Ma dove va? Boh, si sarà offesa Ma che carattere Iomo usa solo latte italiano della filiera Granarolo Ed è prodotto in Italia dal 1947 E questo chi è? Boh, sarà un'altra signora Mucca O signorina eh Iomo, lo yogurt italiano dal 1947 Addirittura Sub o sport? Non una delle due Ma due in una Nuova 500X sport Totalmente sub Totalmente sport Con zero anticipo e zero rate nel 2020 Da 14.700 euro Per te che scegli i sapori più sfiziosi McChicken con scamorza affumicata con latte 100% italiano E peperoni grigliati Scopri le nuove McChicken Variation Il gusto McDonald's parla italiano Con i Summer Days di Unieuro Se vuoi puoi avere super sconti sulla migliore tecnologia E con il tasso zero paghi in 10 rate da settembre Unieuro Batte Forte Sempre Mistero Magazine è pronto a stupirti con le verità che non ti aspetti Fatti sconvolgenti Storie ultraterrene Personaggi insoliti Come nessuno te li racconta Scopri l'altra faccia della realtà con Mistero Magazine Tutti i mesi in edicola Ace presenta Condominio Surace Ricky, ci vogliamo fare un bel panino E lo frigo? Pirti vino? E lo frigo? E basta mamma Vedi che hai fritto pure i fornelli Tanto io ho Ace Sgrassatore Cucina Quello nuovo, senza candeggina Con una sola passata non c'è olio che tenga Nuovo Ace Sgrassatore Ogni giorno scelgo Ace L'ispirazione arriva quando meno te l'aspetti Nasce dagli incontri sorprendenti E dalle fusioni inaspettate del tè Con il gusto della frutta, le erbe e i fiori Fusti Goditi fusioni inaspettate Anche senza zuccheri Tutto ha inizio da un impulso Ma dopo un attimo Ti ritrovi a volare Ed è allora che ti senti Inarrestabile Nuova Onda Jets Hybrid L'ibrido che non c'era Tua da 199 euro al mese Prima data nel 2021 Vai su onda.it Italia Barbara sta per avere un bambino da me Sta per avere un bambino Io divento papà e tu nonno Ci sono notizie che cambiano la vita Se vorrete siete tutti i miei ospiti nella mia villa a Mariani Ma c'è qualcuno Lei è un capone, un bifolco Per favore, la carta Sono rimasto sprovvisto Che non cambia proprio mai Simona Ventura Massimo Boldi Nino Frassica Elisabetta Canaris Teresa Mannino Fedoso La fidanzata di papà Domani sera 21 e 20 Italia 1 Comincia Finalmente Mi devo rispiegare un po' di nuovo? Torniamo in campo insieme Con la giga Network Fibra Ai Vodafone TV E Nauti di Sport Scopri l'offerta speciale Nei nostri negozi O su Vodafone.it Over me Speciale Nei nostri negozi O su Vodafone.it Over me Italia 1 Su Italia 1 Torna a battere il cuore della musica Pronti a saltare e a ballare Con Alan Palmieri Ed Elisabetta Gregoraci Radio Norva Vodafone Battiti Live Prossimamente Su Italia 1 Bravo! Muoviti alla grande Con Verti Restart Puoi avere fino a 60 giorni Di polizza auto gratis Dai, muoviti Fai un preventivo su verti.it E prima di sottoscrivere Leggi il set informativo Su verti.it Verti L'assicurazione sempre avanti Un fenomeno? No, ha solo dormito meglio Con il nuovo Ziquil Natura Pastiglie gommose per il sonno Con melatonina ed estratti botanici Dormi come Natura comanda Quando dormi bene Ti senti al meglio Nuovo Ziquil Natura Ehi, facciamo tutto con Satisfay Scambiamo i soldi con l'app Paghiamo nei negozi E paghiamo anche da casa Basta un tap Scarica subito l'app Satisfay Tutti tap In un'app Solo Perla Nera è così dolce Croccante Con pochissimi semi morbidi e bianchi E tanta polpa fresca Una vera perla di dolcezza Perla Nera Perla Nera Non chiamate la anguria Perla Nera Amo guidare la mia moto Amo tutti i miei piccoli geni Amo distinguermi E non passare inosservata Amo volare E tu cosa ami? Inizia una nuova storia Con un bracciale Pandora L'offerta IREN Luce Gas Più Convenienza Ti offre uno sconto fino al 20% E un bonus pari a 4 mesi di Canone TV Scopri di più su IRENLUCEGAS.IT Una battaglia tra l'acqua e la terra E un supereroe destinato a unirle Posso salire a bordo? Immergiti in un'avventura senza confini Con Aquaman Ti aspetta su Infinity Anche in 4K A Sara piace cercare cognomi strani sul citofono E affondare i polpastrelli nel suo cuor di pane Prima di mangiarlo Pane senza crosta oggi ancora più morbido Nuovo cuor di pane Molino Bianco Il gusto sorprendente di Branca Menta Il brilito del ghiaccio La freschezza della menta Brr Branca Menta Branca Menta Have a nice journey Goditi la tua Italian Summer Rati a partire da 2,99 euro sui migliori smartphone Come lo straordinario Oppo A72 Se sei già cliente E tuo con zero anticipo E con infinito Hai giga illimitati per un mese Senza costi aggiuntivi Over me Quando lo sport e il caldo ti sfiniscono Prova supra di magnesio e potassio Con minerali, vitamine B e vitamina C ad alto dosaggio Ti dà energia più che mai Gente in edicola Papà albano orgoglioso di Jasmine Anche lei cantante Esclusivo primo sole per Vivienne La bimba della serie Dova Maria Grazia Cucinotta Per le nozze d'argento risposo mio marito Con gente in edicola anche gente in cucina Gente in edicola da solo oppure con la cucina Ha soli 50 centesimi in più Anche le scarpe più comode con un bimbo diventano scomode Con loro sei sempre di corsa I piedi urlano Ma poi mi hanno consigliato le solette gelactive Sono sottili, invisibili E il piede non scivola Le avessi scoperte prima Solette gelactive Da Scholle Caldo senza tregua in casa? Vai su termostore.it Scegli tra i migliori climatizzatori Richiedi una consulenza gratuita E goditi il fresco senza pensieri Quest'anno vai sul sicuro per te e la tua famiglia Vai su termostore.it Emozioni nuove Libertà assoluta Guarda al futuro con EcoBonus Peugeot Anticipa gli incentivi con Peugeot Fino a 9.000 euro di EcoBonus Per tutti Peugeot La Dea sfida la vecchia signora Juventus Atalanta Sabato 11 luglio alle 21.45 Live solo su Dazon Dazon Italia 1 It's been a long day Chicago Fire Ogni mercoledì alle 21.20 Prima visione Italia 1 Condividi tutte le emozioni dell'estate Con la Top Quality Network di Windtree Scopri Samsung Galaxy S20 Da 9,99 euro in più al mese Windtree Molto più vicini Ehi Impara dal passato Decidi dove andare Apri quella porta Accendi il tuo motore Allaccia la cintura Stringiti al volante E vieni via con me Grazie italiani In questi mesi così difficili Avete premiato la nostra televisione L'avete considerata Un punto di riferimento sicuro E accogliente E grazie alla vostra attenzione Le reti Mediaset Hanno avuto anche una formidabile Crescita d'ascolto Fondamentale Per una TV Che non costa niente A voi cittadini E vive solo di pubblicità Siamo la televisione Più vista in Italia Con Canale 5 Prima Rete E con la nuova Rete 4 Che grazie ai suoi programmi D'attualità Ha superato i diretti concorrenti Per il nostro lavoro È un grande orgoglio L'orgoglio di un'azienda italiana Che continua a investire Paga le tasse in Italia E offre lavoro a migliaia di famiglie italiane Grazie a tutti voi Ben trovati a questo appuntamento meteo Ci attendo un venerdì Nel complesso soleggiato Con un po' di instabilità Solo sulle zone alpine Per l'avvicinamento Di una nuova perturbazione Ma andiamo a vedere la previsione Perché come ci mostra la grafica Splendere al sole in gran parte d'Italia Un po' di nuvole dal pomeriggio Solo sulle Alpi Dove sono possibili Degli improvvisi acquazzoni E temporali L'estate in Trentino È una scoperta ogni giorno In Val di Fiemme Trovi la natura vera Delle Dolomiti Bellezza Movimento e libertà Il canto del bosco Ti accompagna Fra gli abeti sonori L'oasi dei cervi I laghetti della catena Del lago Rai Potrai scegliere lo sfondo Più scenografico Per il tuo picnic A chilometro zero Accanto a un'opera di land art Circondato da cascate Ruscelli O dalle biodiversità Dell'altopiano di Lavazzè Perché in Val di Fiemme Ovunque vai Trovi la natura Cerca la tua estate Su www.visitfiemme.it Val di Fiemme Trentino C'è bisogno di energia positiva Di bellezza Per guardare avanti Senza dimenticare il passato E se anche il percorso Non sempre sarà facile Fondamentale è avere capacità Di risposta In qualsiasi condizione Per imparare dall'esperienza E progredire Progress you can feel Perché il desiderio La voglia di esplorare Di viaggiare Non devono fermarsi Nuova Audi A3 Sportback Ancora più emozionante Ancora più sicura Ancora più connessa La risposta Audi A un mondo in evoluzione Insieme con un semplice tocco Acquista un prodotto Huawei Per te Fantastici vantaggi per la tua estate E i bonus dei nostri partner Explori ton Huawei App Gallery Siamo pronti Il 112 funziona Totale recupero cognitivo Arrivato il Red Friday Prezzi imbattibili sulla migliore tecnologia Fino al 15 luglio Anche a tasso zero Smart TV Sony 4K 55 pollici A soli 799 euro MediAward Fatto apposta per me Se il semplice bere Ti provoca questo dolore Puoi soffrire di sensibilità dentale Come risultato di una perdita dei minerali È per questo che Mentadent ha sviluppato Sensitive Mineral Active Trattamento Sensibilità Una formula innovativa che ripristina le aree sensibili dei denti con i minerali Trasformando il dolore in sollievo Nuovo Sensitive Mineral Active Trattamento Sensibilità Dentale Di Mentadent La musica di gran classe È ora su Radio Monte Carlo TV 24 ore al giorno di pop Soul, R&B Con i grandi artisti internazionali E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights Ascoltaci e guardaci tutti i giorni sul canale 716 di Sky E i 67 di TVSAT Radio Monte Carlo TV Tu, musica di gran classe Una squadra per essere forte Prima di tutto deve essere in forma Per questo per ogni azienda è importante tutelare la salute Della sua risorsa più grande Le persone Unipolsai assicura già la salute di milioni di italiani In questa ripartenza è al fianco delle imprese Con 3.000 centri medici convenzionati Garanzie complete e innovative E il videoconsulto medico Scopri le soluzioni salute per le imprese Su unipolsai.it o in agenzia Scegli il futuro Unipolsai I suoi agenti Orgogliosamente italiani In queste settimane Quella volta che hai visto nascere nuovi amori Comporre nuove canzoni Intavolare discussioni interminabili Quella volta che ancora uno Un tavolo te lo trovo Certo che mi ricordo Quella volta in cui le seracinesche sembravano non alzarsi più E poi Quella volta che hai riaperto Nastro azzurro A chi adesso non si ferma A chi adesso non si ferma A chi adesso non si ferma Comincia finalmente Mi devo rispiegare un po' il gioco? Torniamo in campo insieme Con la giga Network Fibra Per la polvere ho come una vista laser Ma ho pulito l'altro giorno e si è già riprodotto Ma manco i criceti Ma che fatica l'aspirapolvere E con i panni mi servono otto braccia come i polpi Ho la soluzione Vado di swifferone Il piumino imprigiona la polvere senza spostare niente Presa La scopa acciuffa la polvere anche negli angoli Proprio come una calamita Basta faticare Inizia a swifferare In questi mesi abbiamo compreso il valore della parola indispensabile Come lo sono gli amici, gli affetti Per noi di Conad indispensabili sono i soci, i collaboratori, i clienti E le aziende che quotidianamente lavorano con noi E poi di indispensabile c'è la spesa Per aiutare la comunità fino al 31 agosto Aggiungiamo centinaia di prodotti indispensabili A prezzi sempre bassi e fissi Mai così tanti Mai così a lungo Tutto è inizio da un impulso San Benedetto succoso zero Il piacere della frutta Senza l'aggiunta di zuccheri San Benedetto succoso zero My secret San Benedetto skin care Il rituale di bellezza Con collagene, zinco e acido ialuronico San Benedetto skin care My secret Ho preso quella nuova Ha del potenziale E tu chi sei? Comando un gruppo di soldati Con delle doti estremamente rare Quindi noi non moriamo mai Sei una di noi adesso Mettiamoci al lavoro Il rosso profuma di vita Il giallo è uno schiaffo alla noia Il viola ti abbraccia all'infinito Il nero sussurra alle ombre Il bianco accende la luce San Marco Più potere alla tua immaginazione Ti fischiano le orecchie E perché Opel ti pensa E ti copre di vantaggi Mara ha sempre ragione La super rottamazione Opel è imperdibile Allora Su tutta la gamma Fino a 8.000 euro di vantaggi per tutti Anche senza usato da rottamare La musica di gran classe È ora su Radio Monte Carlo TV 24 ore al giorno di Pop Soul, R&B Con i grandi artisti internazionali E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Knights Ascoltaci e guardaci tutti i giorni Sul canale 716 di Sky E i 67 di TVSAT Radio Monte Carlo TV Musica di gran classe Sorridere è affrontare al meglio ogni giorno È libertà È condividere piccoli momenti Proteggi il tuo sorriso Passa subito allo spazzolino elettrico Solo adesso Oral-B ti offre il rimborso totale Affrettati Scopri come ottenerlo su oralbirimborsototale.it Stress, scorretta alimentazione e antibiotici Possono essere le cause della candida Con Gino Caneste in crema Puoi trattare prurito e bruciore Grazie alla sua azione interna ed esterna E puoi sentirti libera Libera di parlare di candida Libera di essere te stessa Libera di essere donna Gino Caneste neanche monodosi Sub o sport? Sport o SUV? Non una delle due Ma due in una Nuova 500X Sport Totalmente SUV Totalmente sport Gamma 500X Con zero anticipo E zero rate nel 2020 Da 14.700 euro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Carattere sportivo Connessa Nuovo design Inconfondibile Ibrida Nuova Seat Leon Tua da 19.500 euro Disegnata dalla luce Sei pronto all'evento dell'estate Da Media World È arrivato il Red Friday Prezzi imbattibili sulla migliore tecnologia Fino al 15 luglio Anche a tasso zero Aspirapolvere senza filo Dyson V10 Animal A soli 349 euro Media World Fatto apposta per me Tutto ha iniziato da un impulso Ma dopo un attimo Ti ritrovi a volare Ed è allora che ti senti Inarrestabile Nuova Honda Jets Hybrid Librido che non c'era Tua da 199 euro al mese Prima rata nel 2021 Vai su Honda.it La gengiva mi fa un male Sta per sanguinare Con l'infiammazione Può servire un medicinale Puoi provare tanto un verde bocca Cura l'infiammazione di bocca e gengive Calma il dolore E combatte i batteri Che ne sono la causa E la gengiva Va meglio Tanto un verde bocca con l'ottorio Da Angelini Potremmo parlare Dello spot wifi Vantarci del motore turbo benzina Da 120 cavalli O magari dei nostri fari full head Ebbene sì Potremmo Ma sappiamo che quello che conta per te È che questa È una Jeep Jeep Renegade Da 299 euro al mese Con zero anticipo e zero rate nel 2020 E solo a luglio Jeep Renegade Summer Edition Con hotspot wifi e full head pack in omaggio Moto GP Moto 2 e Moto 3 Serie A team Tutto su Dazon Amore c'è tempo Da Zona Italia Barbara sta per avere un bambino da me Sta per avere un bambino Io divento papà E tu nonno Ci sono notizie Che cambiano la vita Se vorrete siete tutti i miei ospiti Nella mia villa a Miami Ma c'è qualcuno Lei è un capone Un bifolco Per favore la carta Sono rimasto sprovvisto Che non cambia proprio mai Simona Ventura Massimo Boldi Nino Frassica Elisabetta Canalis Teresa Mannino Fedoso La fidanzata di papà Domani sera 21 e 20 Italia 1 Insieme con un semplice tocco Acquista un prodotto Huawei Per te Fantastici vantaggi per la tua estate E i bonus dei nostri partner Explori ton Huawei App Gallery Ehi Impara dal passato Decidi dove andare Apri quella porta Accendi il tuo motore Allaccia la cintura Stringiti al volante E vieni via con me Domani sera Scegli il programma Mediaset Che fa per te Mediaset La tua scelta libera San Benedetto Acquavitamin Vitamine in acqua minerale Per ritrovare la carica con le vitamine Al gusto fresco della frutta San Benedetto Acquavitamin My Secret Università online e campus 49 percorsi di laurea Lezioni, tutor ed esami online Info all'800 410 300 Info all'800 410 00 Quando ballo devo curare ogni dettaglio E una pelle sempre liscia è indispensabile Scelgo il nuovo Brown Silk Peel 9 Flex Rimuovi alla radice i peli più corti che la ceretta non cattura Così non devo aspettare tra una ceretta e l'altra E sono sempre pronta per la scena Brown Italia 1 Sembra che chiunque abbia investito con Shaw sia stato affrodato Ha preso anche i suoi soldi Vuoi rubare 20 milioni ad Arthur Shaw nell'edificio con uno dei sistemi di sicurezza più avanzati al mondo Noi non siamo criminali, non sappiamo rubare Io conosco qualcuno che sa farlo La miglior vendetta Il piccolo epilettico vuole derubare qualcuno È la rapina Passa montagna, il commesso dice che questi sono molto più cali Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick Tower Heist, colpo ad alto livello Domenica alle 21.20 Italia 1 Potremmo parlare dell'hotspot wifi Vantarci del motore turbo benzina da 120 cavalli O magari dei nostri fari full LED Ebbene sì, potremmo Ma sappiamo che quello che conta per te È che questa è una Jeep Jeep Renegade Da 299 euro al mese Con zero anticipo e zero rate nel 2020 E solo a luglio Jeep Renegade Summer Edition Con hotspot wifi e full LED pack in omaggio La Dea sfida la vecchia signora Juventus Atalanta Sabato 11 luglio alle 21.45 Live solo su Dazon Dazon Contro dolore e infiammazione Puoi provare Flector Artro Gel antidolorifico nel flacone airless Attivo grazie alle nanotecnologie Flector Artro Attivo come te Dalla ricerca Ipsa Prodotto in Italia Latte intero 100% italiano Che diventa un vortice di gelato Cremoso e croccante E adesso... Adesso vieni a gustarlo da McDonald's Prova McFlario Oreo E scopri tutti gli altri gusti In più dal 6 al 10 luglio Ogni giorno un gusto di McFlarry A un euro Solo con l'app La musica di gran classe È ora su Radio Monte Carlo TV 24 ore al giorno di pop Soul, R&B Con i grandi artisti internazionali E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Knights Ascoltaci e guardaci tutti i giorni Sul canale 716 di Sky E i 67 di TVSAT Radio Monte Carlo TV Musica di gran classe Brillante ed elettrizzante Super frizzante Bocca scioccante Che flow Sempre toss Trepitosa e stilosa Show some love È Pepsi Max Zero zucchero e gusto Max Prova anche la nuova Pepsi Max Zero zucchero Zero caffeina Senza fredda Senza tacchi Senza cravatta Senza appuntamento Senza se E senza ma Senza parole Senza pensieri Senza bicchiere Senza fiato Senza ombra di dubbio Campari Soda L'aperitivo senza etichette Dal 1932 Tutto ha iniziato da un impulso Ma dopo un attimo Ti ritrovi a volare Ed è allora che ti senti Inarrestabile Nuova Honda Jets Hybrid L'ibrido che non c'era Tua da 199 euro al mese Prima data nel 2021 Vai su Honda.it Quella volta che eri un mondo E tutto ti girava intorno Quella volta in cui Le seracinesche Sembravano non alzarsi più E poi Quella volta che hai riaperto Nastro azzurro A chi Adesso Non si ferma Gente in edicola Papà Albano Orgoglioso di Jasmine Anche lei cantante Esclusivo Primo sole per Vivienne La bimba della seridova Maria Grazia Cucinotta Per le nozze d'argento Risposo mio marito Con gente in edicola Anche gente in cucina Gente in edicola Da solo oppure con la cucina Ha soli 50 centesimi in più Respirare Nuotare Camminare Gustare In Liguria Puoi Nuova 500X Sport Totalmente SUV Totalmente Sport Gamma 500X Con zero anticipo E zero rate Nel 2020 Da 14.700 euro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Con il caldo abbiamo tutti bisogno di una spinta di energia Per questo c'è Sustainium Plus L'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina Per avere il massimo dell'energia Sustainium Plus, la spinta che ti serve Mennarini E tu chi sei? Comando un gruppo di soldati come te Con delle doti estremamente rare Siamo molto difficili da uccidere Voi siete i buoni o i cattivi? Dipende dal secolo Quindi noi non moriamo male Sei una di noi adesso Mettiamoci al lavoro Muoviamoci Aspettiamo il segnale Come diavolo facciamo a capire qual è? Ah Italia Barbara sta per avere un bambino da me Sta per avere un bambino Io divento papà e tu nonno Ci sono notizie che cambiano la vita Se vorrete siete tutti i miei ospiti nella mia villa a Miami Ma c'è qualcuno Lei è un capone, un bifolco Per favore la carta Sono rimasto sprovvisto Che non cambia proprio mai Simona Ventura Massimo Boldi Nino Frassica Elisabetta Canaris Teresa Mannino Fedoso La fidanzata di papà Domani sera 21 e 20 Italia 1 Raddoppia la tua estate Con Super Giga Hai 40 Giga a 9,99 euro E se hai team anche a casa I Giga diventano illimitati per tutta la famiglia In più puoi avere il Samsung Galaxy A21S A 5 euro al mese Senza anticipo Vieni nei negozi team Cioè io non sono così idiota come pensi Nuovo ponte di Genova Ultimatum del governo d'autostrade È proposta entro il fine settimana Che tuteli l'interesse pubblico Oppure sarà revoca delle concessioni Maggioranza spaccata Le opposizioni Teatrino imbarazzante Intanto la procura di Genova Apre un fascicolo sul caos Autostrade Liguri Tenuta del governo Conte ad una TV spagnola Non vedo all'orizzonte un rimpasto Crisi economica Il ministro dell'interno Alza la guardia in autunno Concreto rischio di tensioni sociali Italia viva in calza L'esecutivo La vicenda Berlusconi E la cartina di tornasole Della giustizia italiana Valutiamo avvio Di una commissione d'inchiesta Il vieto di ingresso in Italia Per chi arriva da 13 paesi A rischio virus Tra cui Bangladesh Bosnia Brasile Perù Fermato alla stazione Termini Di Roma Un bengalese Di 53 anni Che positivo Avrebbe dovuto stare in isolamento Rientrava dall'Emilia Romagna In Italia 229 contagi in più Rispetto a ieri 12 i morti L'Organizzazione Mondiale Della Sanità Varo un'inchiesta Indipendente Su come è stato gestita la pandemia Mentre il virus accelera nel mondo Oltre 12 milioni casi E 550 mila i morti Il comitato indipendente Sarà guidato Dall'ex premier neozelandese Clark E dall'ex presidente liberiano Sirleaf La vicenda dei ragazzi morti a Terni Lo spacciatore gli ho venduto Una boccetta di metadone a 15 euro Ha confessato in carcere L'uomo che ha procurato la droga Ai due adolescenti Di 15 e 16 anni Poi deceduti nella sonno Non era la prima volta Che i due acquistavano Lo stupefacente Per ora L'uomo è accusato di morte Come conseguenza di altro delitto Ehi, facciamo tutto con Satisfay Scambiamo i soldi con l'app Paghiamo nei negozi E paghiamo anche da casa Basta un tap Scarica subito l'app Satisfay Tutti i tap In un'app Italia 1 Non sei un samurai Escluso Condannato Alla vendita Ho bisogno del tuo aiuto Chiano Ripsi La leggenda Dei 47 guerrieri Divenuti immortali 47 Ronin Lunedì alle 21 e 20 Italia 1 Tutto ha iniziato da un impulso Ma dopo un attimo Ti ritrovi a volare Ed è allora che ti senti Inarrestabile Nuova Onda Jets Hybrid L'ibrido che non c'era Tua da 199 euro al mese Prima rata nel 2021 Vai su onda.it L'ispirazione Arriva quando meno Te l'aspetti Nasce dagli incontri Sorprendenti E dalle fusioni Inaspettate del tè Con il gusto della frutta Le erbe E i fiori Fuse Tea Goditi fusioni Inaspettate Anche senza zuccheri Birra seme dorato Bevi le tue emozioni Noia Spuntini Divano Cucina Fame Ti sono familiari? Riprendi il controllo E preparati all'estate Con XLS Medical Forte 5 In aggiunta a dieta e movimento Hai 5 benefici in uno Per ridurre il grasso preesistente Taglie e centimetri Su fianchi e vita Pronta per l'estate Con XLS Medical Forte 5 XLS Medical Forte 5 Provalo ora Iperdi peso Continua il 20% di sconto Sulla linea XLS Medical Approfitta delle Black Wix E scegli il prodotto Che ho adatto a te Hai tempo fino al 31 luglio In farmacia In queste settimane Hai messo tutta la tua energia In ogni cosa che hai fatto Ora Iberdrola ci mette la sua Perché anche pagare meno è importante Passa all'offerta EcoTua Luce Scegli la soluzione che preferisci E hai il 50% di sconto Per i primi 4 mesi Sulla componente energia Lo fai per te Lo fai per il pianeta Iberdrola MotoGP Moto2 e Moto3 Serie A Team Tutto su DAZON DAZON Il dolore a volte Può farti venire voglia Di buttare l'intera giornata Nel cestino Anna, è tutto ok? Ho mal di testa Puoi provare Brufen Analgesico Agisci rapidamente Grazie al sale di lisina Che permette un veloce assorbimento Del principio attivo Vieni a pranzo con noi? Con piacere Brufen Analgesico Mi ha aiutato Non scorre tutto come dovrebbe Capita Può succedere a te Come succede a tante altre donne E quando la secchezza diventa Un ostacolo al piacere È utile un gel lubrificante Dammi retta Il sesso è più piacevole con un gel Durex Naturals Pure Gel lubrificante Soffro un po' di vertigini Diciamo che è il modo del mio sport Che ne so Potevamo fare non c'è due senza tre Senza fredda Senza tacchi Senza cravatta Senza appuntamento Senza se E senza ma Senza parole Senza pensieri Senza bicchiere Senza fiato Senza ombra di dubbio Campari soda L'aperitivo senza etichette Dal 1932 Agli italiani Dedichiamo una birra Fatta con i quattro luppoli Migliori al mondo Uno di questi È coltivato in Italia E sta solo aspettando Il momento Per fiorire di nuovo E tornare più forte di prima Proprio come New York Quattro luppoli Birrificio Angelo Poretti Insieme agli italiani Dal 1877 Carattere sportivo Connessa Nuovo design Inconfondibile Ibrida Nuova Seat Leon Tua da 19.500 euro Disegnata dalla luce Coglie l'occasione Di viaggiare in Italia A tasso zero Vai sul sito Unicredit E scopri cosa ti riserva Dal primo luglio Al 31 agosto 2020 Carta Flexia La serie crime Più longeva della tv americana Arriva alla sua ventesima stagione quando ballo devo curare ogni dettaglio è una pelle sempre liscia e indispensabile scelgo il nuovo brown silk peel 9 flex rimuovi alla radice i peli più corti che la ceretta non cattura così non devo aspettare tra una ceretta e l'altra e sono sempre pronta per la scena braun grazie italiani in questi mesi così difficili avete premiato la nostra televisione l'avete considerata un punto di riferimento sicuro e accogliente e grazie alla vostra attenzione le reti Mediaset hanno avuto anche una formidabile crescita d'ascolto fondamentale per una tv che non costa niente a voi cittadini e vive solo di pubblicità siamo la televisione più vista in Italia con canale 5 prima rete e con la nuova rete 4 che grazie ai suoi programmi d'attualità ha superato i diretti concorrenti per il nostro lavoro è un grande orgoglio l'orgoglio di un'azienda italiana che continua a investire paga le tasse in Italia e offre lavoro a migliaia di famiglie italiane grazie a tutti voi ben trovati a questo appuntamento meteo ci attendo un venerdì nel complesso soleggiato con un po' di instabilità solo sulle zone alpine per l'avvicinamento di una nuova perturbazione ma andiamo a vedere la previsione perché come ci mostra la grafica splendere al sole in gran parte d'Italia un po' di nuvole dal pomeriggio solo sulle Alpi dove sono possibili degli improvvisi acquazzoni e temporali l'estate in Trentino è una scoperta ogni giorno in Val di Fiemme trovi la natura vera delle Dolomiti bellezza, movimento e libertà il canto del bosco ti accompagna fra gli abeti sonori l'oasi dei cervi i laghetti della catena della Gorai potrai scegliere lo sfondo più scenografico per il tuo picnic a chilometro zero accanto a un'opera di land art circondato da cascate, ruscelli o dalle biodiversità dell'altopiano di Lavazzè perché in Val di Fiemme ovunque vai trovi la natura cerca la tua estate su www.visitfiemme.it Val di Fiemme Trentino ok guarda c'è Lewis dietro Frank poi in